I perimitati, ecco ho preparato il mio pranzo, i miei uovi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari. Altri poi presero i suoi servi e li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi, la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano temi. Andate ora nei concichi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. uscirono per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovavano cattivi e buoni e la sala delle nozze si... Grazie. 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 Grazie.